Se l'indione è tornata in tv per rilasciare la sua prima intervista televisiva a due anni dall'annuncio della malattia A N B C News la cantante ha raccontato per la prima volta le conseguenze fisiche e psichiche che la sindrome della persona rigida di cui è affetta ha causato su di lei Rivelando di aver A N B C News la cantante ha raccontato Non potevo più A N B C News la cantante ha raccontato per la prima volta le conseguenze fisiche e psichiche che la sindrome della persona rigida di cui è affetta ha causato su di lei Rivelando di aver A N B C News la cantante ha raccontato Mentire è un peso troppo grande per me Ha ammesso Dion che in un primo tempo ha sottovalutato le avvisaglie della malattia Non sapevo cosa stesse succedendo Non mi sono presa il tempo Avrei dovuto fermarmi Prendermi il tempo Tempo che è arrivato in seguito e che si è reso ancora più stringente quando Con la scomparsa del marito René Angelil Nel 2016 La cantante ha realizzato con quanta difficoltà Con il tempo che è arrivato in seguito e che si è reso ancora più stringente Quando Con la scomparsa del marito René Angelil Nel 2016 La cantante ha realizzato con quanta difficoltà Con il tempo che è arrivato Ho dovuto crescere i miei figli Ho dovuto nascondermi Ho dovuto cercare di essere Mi stava grappando ai miei sogni A proseguire Gli effetti della sindrome della persona rigida Malattia che colpisce il sistema nervoso Sono devastanti Per questo Celine Dion ha dovuto dire addio a tutte le esibizioni dal vivo Dal momento che il dolore può verificarsi nella zona addominale Nella colonna vertebrale Nelle costole e anche nel Sono crampi Ma è come se fossero in una posizione in cui non puoi sbloccarli Tutto questo mi causa difficoltà quando cammino e non mi permette di usare le corde vocali per cantare come sono abituata Ha spiegato Possono anche essere nell'addome Nella colonna vertebrale Tutto questo mi causa A un certo punto mi sono rotta delle costole Perché gli spasmi Quando sono molto violenti Possono rompere al Se punto i piedi rimarranno Se cucino Perché amo cucinare Le mie dita e le mie mani rimarranno in quella Celine Dion ha poi aggiunto che si sta sottoponendo a una terapia atletica, fisica e vocale per 5 giorni alla settimana proprio per combat È difficile cancellare un osped Lavoro duro ogni giorno Ma devo ammettere che mi mancano così tanto le persone Ha aggiunto Prima non ero pronta a parlare Ma adesso In un'exclusive interview with today Singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff persons In un'exclusive interview with today Singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff persons I could not do this anymore She says Adding Lying for me The burden was too much